ciao ragazzi e benvenuti di nuovo nel mio video c'è stato un pochino di raffreddamento nel mio canale mi sono un po fermato poi vi spiegherò più in qua il motivo di questo blocco dell'artista se così vogliamo dire qualcuno l'avrà già riconosciuta uno dei miei ultimissimi video e poi i video che ho pubblicato avevamo nel video Ilaria e video che ho voluto produrre io insomma riprese e montaggio e quant'altro io ho voluto dare mano anche per dilettarmi per divertirmi a fare questo video siamo piccoli l'area com'è si va avanti come gambe ribenti fa una domanda stupida una delle prime domande mi sorge chi è Ilaria Ilaria è una ragazza di 26 anni in cerca di soluzioni a tutti i suoi problemi perché io ho passato una vita molto travagliata la sto passando tuttora e quindi niente questa è Ilaria ok però il tuo nome d'arte non è Ilaria no il mio nome d'arte è Ili Blast chi è Ili Blast? allora Ili Blast diciamo in parole semplici semplici è la persona che io vedo al mio specchio quando io mi specchio vedo il mio alter ego quello che vorrei essere ok quindi è un modo tuo anche per per esprimere perché io perché Ilaria è molto timida molto come si può dire per malosa si tiene sempre tutto dentro insomma diciamo l'opposto mio Ili Blast ok dov'è che nasce poi la sua passione per lo scrivere per per cantare la passione per la musica in generale allora la passione per la musica mi è sorta nel periodo dell'infanzia a scuola per i non toscani è uscita ok è nata è nata mi è sorto un bambino mi è sorto un problema diciamo sì nel periodo dell'infanzia mi è nata la passione per la musica però non a livello di scrittura o di canto diciamo quando ero all'elementare suonavo il flauto e da lì ascoltando musica ascoltando i vari artisti piano piano ho cominciato a suonare e sono andata a a scuola di musica ho fatto clarinetto e sassofono ti vorrei vedere il clarinetto no non mi guardare col clarinetto ma lo so suonare da diato la regia fanno sì con la teffra sì certo ce l'hai ancora i clarinetto no non ce l'ho più ho solo lo sassofono va bene anche lo sassofono e ti suonero ai trombone qualche volta che ti devo dire mettiamo a cioè tenore o benissimo no vabbè e poi niente alle medie ho sempre fatto musica poi alle superiori quando quelle due ore di musica a settimana non c'erano più diciamo mi sono appassionata al canto da autodidatta ok il genere che fa è un genere non è diciamo nuovo no è un genere nato negli anni 80 fino anni 70 anni 80 più anni 80 e è stato in voga insomma per tanto tempo alti e bassi poi era quasi del tutto scomparso sì e poi ricomparso diciamo verso l'inizio degli anni 2000 un po di più secondo me poi diciamo dipende dipende di roba ovviamente non parlo di di spazzatura come ora diciamo se a livello commerciale se era rientrato ora era entrato in voga certo purtroppo nel senso non giudico nessuno però no no effettivamente guarda neanche io la trap fa parte dell'albero del comunque della della musica rap il tuo genere rap giusto sì ma il mio è un genere vecchio stampo vecchio stampo quindi riprende un po da un po dal rap americano anche insomma sì perché diciamo che ora non so se vuoi sapere come mi è nata la passione per il rap diciamo perché almeno faccio capire un po agli interlocutori il mio il mio passaggio da un genere pop a un genere completamente diverso perché è molto diverso rispetto a un genere certo niente io ho cominciato a ascoltare musica come come sfogo diciamo soprattutto perché ho avuto parecchie delusioni in ambito dell'amore quindi i miei artisti diciamo del cuore che mi hanno accompagnato nella si artisti del cuore che mi hanno accompagnato dai 16 ai 17 18 anni roba così diciamo sono stati moda perché sì lo so mettiti a ridere però a me piace un ragazzino quando sta male si ascolta quelle due tre canzoni de moda e sta già meglio nel senso ovviamente ti puoi deprimere come no però io non lo sentivo come vero genere di sfogo allora mi è successo è un po ultimo ora è un po ultimo molto molto e diciamo quindi io mi sono ritrovato un giorno ma non così a cavolo diciamo per le esperienze che ho avuto in ambito sempre a livello d'amore ho detto ora butto giù una canzone però la voglio fare bella ho detto non la voglio fare per offendere qualcuno non cattiva ecco non diciamo così per per gioco per sfogo chiamalo come ti pare ho scritto una canzone rima su una base di youtube che canzionero sono persa di te la mia prima canzone che è nata così per gioco nel 2014 quindi è nata cinque anni fa ovviamente il mio percorso musicale è cominciato dopo perché io l'ho scritta è sempre rimasta lì dentro un cassetto perché ogni tanto la rileggevo ogni tanto la cantavo a queste serate karaoke e ho visto che comunque piacevo alle persone che ci ho pensato un po su fino a che non è partito il mio percorso musicale e ho deciso di scegliere quella canzone come prima canzone e lanciasse appunto il mio percorso nel mondo della musica come da quando ha fatto sentire una volta che si è realizzato mi sentivo mi senti finito tutto parlo del video si è su youtube sul tuo canale il blast e cosa sia quando ha cominciato a vedere i numerini fantastici io mi sono guarda la gente ti dice ma non c'è il libro no si mi è successo anche se diciamo è stato un po fuori dal comune per me la mia ragazza si è non diciamo che cosa ma si è tatuato con qualcosa che riguarda le tue canzoni infatti non solo lei si fa anche altre persone ma la cosa bella è che una volta che ho realizzato il mio primo video è stata ok si vede un culo si muove diciamo che diciamo che quando ho visto i miei primi numeri e il riscontro da parte delle persone sia quelle che conoscevo che quelle che non conoscevo per i complimenti ricevuti che poi io sono sincera quella è una canzone scritta senza tecnica senza pensare al fatto che sia una canzone rap è una canzone senza ritornello perché a me i ritornelli non piacciono a prescindere oddio è un po controsenso no aspetta ora poi ci arriviamo ci arriviamo perché comunque io diciamo quella era una canzone nata in 32 barre ok non era una canzone con un intermezzo quindi ho deciso di farlo uscire così perché non mi piaceva a cucirci un ritornello sopra e anche perché io penso che un discorso di rascano così discorso di gesì esatto cioè se quella è una canzone che io sono ripetizioni esatto ci ho messo 15 15 minuti per scrivere quella canzone ho detto perché la devo modificare cioè non mi interessava nemmeno che piacesse a qualcuno perché alla fine è una cosa mia ovviamente ci saranno sempre gli haters ci saranno quelli e te non hai tecnica è vero io non ce l'ho tecnica ma sono qui a dirlo non mi interessa perché quello che interessa a me è lanciare il messaggio di quello che io sto provando in quella canzone di quello che io ho passato scrivendo quella canzone magari sono stupidi inutili c'è ora no ora io non ti ritengo una persona che fa video stupidi o no però ho fatto magari pochissime che non fatti poi certo c'è stato il blocco ma non ho fatto video di altri parti vabbè la qualità la tecnica quello è una cosa che poi ti viene nel tempo io ripeto io prima ero usavo solo un s7 edge ora abbiamo le due softbox certo in giardino a casa mia sembra di stare su marte c'è il mirofono due mirofoni per sicurezza insomma ci vuole del tempo comunque poi è ovvio che uno dall'altra parte non puoi avere sempre una positività quello che uno deve partire col presupposto che non sempre le cose possono essere positive ovviamente se fai come se fai canzoni spazzatura lascia stare anche lì c'è un discorso magari a parte la tecnica o anche dire mi piace quella quel tipo di voce c'è un discorso che cosa dici nella canzone come dici le cose cose e può anche non piacerti quel genere però certo io per esempio a me il rap piace ascolto tutto non è il mio genere preferito però a me piace tanto certo perché da un è ruvido è un qualcosa di però tante volte puoi dare una ruvidità più leggera o leggera diciamo lo zuccherino se vuoi certo ovviamente non è quel rap come no certo però ovviamente può essere un cioè io posso urlarti nel viso dicendosi anche una cosa bella certo come posso dirti una cosa cattiva senza dover urlare il che ti fa anche rimanere un attimo spazio non so se hai sentito l'ultima canzone che ho fatto in fit quella che è uscita a novembre quella con quella famosa quella con dapic sì 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 quella anche in macchina esatto quindi voglio dire come quella è un dissing come si intitola questa canzone come si intitolava no non è lontana non sto parlando di quella no aspetta come si intitolava perché non è manco mia amicizia o falsità no perché ne ho fatte due con lui non mi ricordavo amicizia o falsità quella un po dance no quella non c'è confine quella una canzone in cui non c'è dissing io per ricollegarmi al discorso che ha fatto te dove c'è un dissing è amicizia o falsità quella oppure anche quell'altra l'ultima che ho fatto insieme anche a raid on ad apix è stata il mio il mio dilemma sono due canzoni in fit in cui io in modo molto leggero in modo molto pulito disso delle persone tra cui però tra cui note no amore mio non ti farei male del male a te e ritornando sul discorso del canale youtube una delle varie canzoni non volevo tagliare se possibile visto il dissing il dissing no 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 tranquillo riparto tornando al discorso del canale youtube abbiamo che qualcuno ha scritto abbiamo detto perché perché lo devi dire al plurale la gente avrà notato ci sono c'è un doppio di una canzone nel frattempo mi sta cascando ancora l'acqua da perché abbiamo dovuto spostare tutto il tavolo in là perché abbiamo la godina di merda marian gocci va bene c'è un doppio di un video c'è un video che dove ho fatto delle riprese e anche il montaggio certo fatto e dove lo abbiamo fatto in un luogo dove ora aspetta questo ci arriviamo c'è anche il motivo per cui l'hai voluto fare e poi è venuto tutto in quanto 10 minuti 10 minuti neanche mi ero portato dietro il gimbal e la fotonamera la sera vista la 6100 della la 6.000 della sony ho detto se l'ha visto questi murales ho detto vai cominci a cantare si è messa al telefono a casca con la canzone si è è venuto quale canzone ti sei messa a cantare mi sono messa a cantare ricomincio da qui la prima che mi è venuta proprio spontanea di fare lì in quel luogo cosa ti cosa ti rappresenta la canzone ci hai raccontato di quell'altra che cosa rappresenta questa invece allora questa canzone per me penso sia la canzone più significativa e io abbia fatto fino ad ora parla di cose molto pese che io ho vissuto tra diciamo dal periodo dell'infanzia fino ai 17 18 anni cioè fino a che io non ho accettato me stessa perché ora insomma ovviamente non tutti magari sono vittime di bullismo però io purtroppo sono stata vittima di bullismo a scuola fuori dalla scuola ovunque e ho voluto diciamo portare una canzone del genere a un contest perché allora era un contest che ho fatto a pistoia ho passato la selezione e mi sono ritrovata a dover scrivere questo brano per motivi di lavoro nel giro di due giorni e la prima cosa che mi è venuta in mente di tornare indietro nel tempo e quello che ho visto tornando indietro nel tempo era io che stavo male io che stavo veramente ma non so se si può se si può cambiare di solito ma che c'è diversi uno dall'altro però tante volte prendete nel tempo non conviene sempre no 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 alcuni casi però ti dico ho voluto con l'immaginazione tornare indietro e vedere me che stavo male e la maggior parte del tempo in cui ho visto che io stavo male era per colpa del bullismo quindi ho deciso di raccontare degli anni particolari dai 13 ai 17 anni che sono stati gli anni più brutti che io possa aver passato nella mia vita ovviamente quando ero ragazzina poi diciamo l'ho scritta diciamo ho avuto anch'io dei momenti in cui me lo immagino è successo anche a me però avevo paura a portare una canzone del genere perché comunque è un po troppo cruda però ho detto basta devo perché io ancora non sono riuscita del tutto a superare questa cosa quindi io diciamo quella prima volta a scuola ecco queste sono cose che sono successe prevale anche fuori quindi anche fuori c'è dal nulla così da anche gente conoscevi no gente che non conoscevo e ora insomma non so se sia il caso di raccontare che non voglio fare la vittima però però era sono stata cerchiata pensi che questa cosa ci sia un'età più o meno che non solo per fare per eseguire il bullismo ma anche per riceverlo ci sono allora ci sono magari dei luoghi che possano cambiare oppure tutto tutto il mondo e paese allora in quei quattro anni di inferno per me tutto il mondo era paese è anche vero che io già ero timida prima qualsiasi cosa mi succedeva tenevo sempre tutto dentro perché avevo paura a dire le cose a qualcuno perché io sono sempre stata una che vuole vuole farcela da sola anche perché quando ho provato a chiedere aiuto mi è stato detto te la sei cercata e quindi con questa cosa me la sono cercata ho capito che ero sola e allora ho dovuto ingoiare senza mai sputare il rospo delle volte mi sono trovata costretta a subire senza poter fare niente ma così ingoiare il rospero era un tuo modo per non reagire perché avevi la voglia non avevi pensavi che non servisse a nulla reagire o perché io ho provato a reagire ma è stato inutile fisicamente basta magari io non ho forse la musica è stata una delle tue reazioni cioè si ha portato magari anche sì anche anche è stato molto spesso sì sì cioè magari la perdita di qualcuno la perdita di un amore oppure ne so io problemi in famiglia nel tempo e magari portano le persone spesso a uscire cioè c'è chi diventa pittore c'è chi diventa attore magari cioè io tornerei indietro nel tempo va bene sì lui per esempio ha avuto un passato parecchio pesante però con questo con questo suo modo di diciamo si è cominciato a recitare ha tirato fuori anche delle cose belle però sai a volte non anche delle cose anche una persona abbastanza per giunta di non basta essere artisti non basta però tante volte aiuta cioè aiuta a tirare fuori magari l'artista aiuta ma allo stesso tempo io ripeto non sono stata bene a fare questa canzone io mi ricordo che quando sono salita sul palco la prima sera che ho cantato questa canzone a metà canzone mi sono messa a piangere e sono scesa dal palco però visto c'è ovviamente è una canzone che ha colpito e mi hanno fatto ricantare alla fine cioè per farti capire che io sono una persona anche abbastanza emotiva io purtroppo per queste esperienze che ho vissuto non c'è solo questo c'è gli altri 3000 problemi che diciamo questa era una cosa che sapevo un aiuto poteva non essermi un problema come lo è stato fino cioè come lo come lo reputo tutt'oggi perché se mi si ripresenta una situazione del genere io non saprei lo stesso come fare ad uscirne quindi diciamo è un po è difficile intanto abbiamo scusate ma siamo giardino a casa mia un po un problema andò faccia la gente perché abbiamo i cani molto silenziosi per rilacciarmi a questo discorso del del video sino del video e anche del fatto mi dicevi del che non hai avuto una mano non hai avuto anzi però una cosa te la posso dire se io tornassi indietro nel tempo non credo di riuscire a fare grandi cose cioè non cambieresti non penso proprio di riuscire a cambiare riuscire o non vorresti no no alla fine forse le cose non riuscire perché quando si ritrovi sola abbandonato abbandonata cioè io ingurgitando tutto cioè tenendomi tutto dentro all'età di 19 anni si mi sono data la svolta ma io e da quando ho 19 anni sono quasi dieci anni che io soffro di attacchi di panico questo per farti capire che si tornerei indietro ma con un aiuto ok ma capire la mia domanda per esempio la prossima domanda diceva che chi e cosa ti ha dato mano nell'uscire da questa situazione penso nessun treste stessa forse me stessa perché ho deciso di accettarmi ok quindi quindi ho fatto il grande passo per me l'ho fatto per me e chi non mi accetta così come sono per me se ritrovo un muro comunque parlando dei due video ho visto che prima mi ha chiesto perché ci sono due video ve lo spiego subito il primo video che è un video ufficiale che mi ha girato un ragazzo parecchio bravo di firenze c'è una storytelling non so se sapete cosa vuol dire storytelling vuol dire che c'è una storia dietro al video la mia canzone parla di diciamo è raccontata sotto forma di storia ok e c'è stato fatto un video sotto forma di storytelling infatti si vede che c'è questa ragazza nel video si vede questa ragazza che sarebbe ilaria questa ragazza che si trova con due bulli diciamo nel giardino della scuola che sta subendo purtroppo del bullismo alla fine a un certo punto si vede me cioè il blast che dà consigli a questa ragazza quindi è come se io parlassi con me stessa del passato del passato in quel pezzo di canzone e diciamo come se mi fossi il famoso flashback esatto è come se mi fossi detta da sola vai avanti cioè in quella scena c'è proprio è proprio rappresentata la solitudine tra me e me medesima cioè tra me e il mio alter ego quindi ovviamente chi non ha visto il video lo invito a guardarlo non mi interessa delle visualizzazioni ma dato che il mio amico perché sennò sì sennò vi è il fatto di quando era a londra e appunto danni si è portato la sua fotocamera il suo game ball tutto il resto dei carlino dobbiamo spiegare cos'è un gimbal il gym gimbal il gimbal il treppiede det sostiene dei fotocamera stabilizzate stabilizzate tutto video and photos and photos and you can tenere dis on to the money che il posto l'hai già detto si dove sono dove stavano girato sì abbiamo girato il video a londra che dove sapere a londra e lei spesso come non ricordare la famosissima frase it's very toilet it's very toilet oppure oppure quando io sono che mi hanno dato una birra abbiamo preso una birra alle 14 come vabbè lì è il pomeriggio si dopo dopo pranzo abbiamo preso questa pranzo pranzo un calo abbiamo fatto una colazione all'11 abbiamo rimangiato sull'aereo alle 21 e 30 comunque che arrivo lì che gli ho detto una cosa del tipo che era buona la birra è costata pochissimo tipo due stelline e mezzo sì una birra media e io c'avevo la sinni la mia ragazza accanto che cercava di dimmi io invece sono partito di mio di mio pugno e io ho detto una cosa tipo the cost non mi ricordo dei rialto che lei dice the cost is very alt comunque abbiamo lui lui perché è stata la sua idea di girare il video lì ma così in dieci minuti c'è più o meno in dieci minuti cosa fai cominciato le riprese che inizialmente avevi cominciate con il giubbotto si non ricordo ancora poi si è partita mentre ero a fare le riprese c'evo la sinni faceva la diretta sempre nel mezzo se facevo il video c'evo la sinni tipo non fai parte del fondo di londra una per strada e gira fra l'altro una strada chiusa bellissima con un murales immenso io amo il murales quindi che poi nel primo video se non lo sai attila lo sa perché si è messa a ridere quando lo vedeva nel primo video che poi ci siamo bloccati si è bloccata e quant'altro mentre ti passi c'è un signore che è in cucina a lavorare l'ho visto ci guardano così sarebbe stato bellino perché dovevo fare lo zoom vuoi fai c'è visto i video youtube dove c'è magari la persona rimane si fare rallenti in bianco e nero lo zoom di lui non mi è venuto in mente potevo mettere anche però lo puoi fare si vuole fare un video a parte what the fuck va beh sì che ho scritto sotto WVT è così la via è venuta strana cosa perché non era non era un programma non è che siamo andati a londra per fare i video noi siamo andati a londra per parlare per imparare l'inglese e divertirci per imparare l'inglese we have imparato anche troppo io bevo la birra ultimi dai mi dicevi di quanto cioè mi dicevi quanto è stato brutto sentirsi soli in quella situazione cioè quanto avrebbe cambiato la situazione non essere soli cioè avrebbe cambiato qualcosa in te si sicuramente non sarei la persona che sono oggi fragile debole un po depressa attacchi di panico di continuo non andrei da una psichiatra per cose passate non non starei cioè delle volte non ho voglia di uscire perché delle volte mi vede la paura che succede qualcosa quindi diciamo l'aiuto sarebbe stato molto utile security voi non lo potete vedere c'è attila una bottiglia dell'acqua in mano nella move e a mi scappa è l'unico fantastico e la riptonita è mi piano le nota buona e se parte viva la bianca il tau chi c'è non c'è nessuno c'è lì ok ma che c'è la silvia silvia saluta silvia ciao silvia ciao c'è qui facciamo stiamo facendo il tiro della bottiglia andremo alle olimpiadi quindi praticamente mi dicevi che avrebbe cambia cosa cioè avrebbe sì ma soprattutto avere non ti dico un aiuto a livello ti aiuto a niente i bulli ma anche un qualcosa un sostegno a livello morale cioè avere persone vicino a cui c'è te torni a casa piangendo dicendo che cosa sta succedendo e ti viene detto semplicemente te la sei cercata perché me la peperina perché ho cercato di difendermi me la sono cercata cioè quindi insomma sono sola sola dentro una palla di vetro ma tuttora lo sono perché qualsiasi cosa succede ho solo me non ho nessuno posso avere gli amici posso avere la mia dolce metà a cui posso dire qualcosa ma l'aiuto ho deciso che deve venire da me poi se non ce la fa pace tanto non ce l'ho fatta fino a ora non è che io vada a chiedere aiuto a bussare non sono il tipo non mi piace l'emosinare niente mi sarebbe piaciuto di più siccome io sono una persona che quando vedo qualcuno in difficoltà sono la prima che corre che che sia una scena dove due persone si prendano verbalmente o che sia una scena dove due persone si prendano fisicamente io sono una che si mette nel mezzo che non è sempre non lo fanno tutti perché io non sarebbe sempre da fare no lo so però io sono molto impulsiva non guardo se ho paura se ce la posso fare sono impulsiva ok quando succede a me tutte le persone che avevo lì intorno cioè nel mentre io stavo subendo atti di violenza le persone che erano lì non si sono preoccupate di niente non parlo della scuola in questo caso perché io come ho detto prima ho ricevuto questi atti di bullismo purtroppo anche fuori ok sono stata accerchiata sul lavoro no sul lavoro fortunatamente no neanche a livello diciamo verbale no no io ti parlo fuori serata con amici non avevo le sigarette mi hanno accerchiata mi è stato rubato il telefono mi è stato rubato il portafoglio sono stata pestata ho provato a reagire quando ho visto che avevano coltelli io l'uniosa ho fatto è stata io stasera muoio mi faccio picchiare le persone che hanno visto non ce n'è stata una e vi dico una secondo te perché nessuno ha reagito c'è paura e caiana fa schifo ok aspetta è una questione di cultura una questione culturale ora non voglio dire allora è una questione anche culturale del posto allora ti spiego che magari non lo so io sono persone che non hanno avuto te lo spiego io queste persone purtroppo io premetto che non sono razzista perché non lo so non lo sono ora e non lo sarò mai però erano tre marocchine e tre marocchini ok non c'è altro termine per definire perché loro vengano dal marocco quindi sono marocchini ok io non li conosco l'ho saputo dopo che erano marocchini eccetera eccetera che stanno a pistoia però non l'ho mai identificati anche ho fatto una denuncia a livello x quindi premettendo e chiudendo la parentesi quindi aprendo e chiudendo la parentesi che non sono razzista le persone sì no io non sono razzista no ma il periodo il periodo gli ultimi anni sono un po' ma lo so sì però però appunto non essendolo vi posso dire che quelle persone quando io penso che l'abbiano fatto più per paura di non reagire persone anziani giovani passavano e guardavano mentre io venivo pestata oh ma ragazzi avevo diciannove anni quando è successo quindi è successo dopo il periodo che io ho detto passato quattro anni dopo che mi sono accettata è successo dopo quindi non che consiglio dai te alle persone subiscano allora l'unico consiglio che vi posso dare appena succede qualcosa andate da uno psicologo non fate ovviamente parlatene prima a casa non chiudetevi in voi stessi non chiudetevi in voi stessi ovviamente ve lo dice una che è stata costretta a chiudersi in se stessa perché io non sapevo davvero dove andare ok non ho mai avuto un aiuto a livello morale però tante persone magari che hanno la possibilità di avere un bel rapporto con la famiglia di di parlare anche di queste cose e quindi magari siete anche persone fortunate su questo punto di vista parlatene senza paura se avete bisogno di uno psicologo andateci perché non c'è niente di male andare da uno psicologo e nemmeno da una da uno psichiatra anche da uno psicoanalista perché io personalmente evo da tutte e tre quindi nel senso se vi tenete tutto dentro succede come è successo a me attacchi di panico magari si rischia anche di diventare cattiva diventi cattiva perché io sono molto irritabile io ho degli attacchi di panico ma ho anche degli attacchi di nervi sono irritabile sono attiva non ti farei mai del male del male perché c'è diversi tipi di cattiveri se te mi fai qualcosa diventi anche magari insensibile alle cose sì sono molto insensibile purtroppo mi ci hanno fatto diventare io non potendo fare niente questa sono io oggi io ci sono passato anch'io grazie per l'acqua e vodka di bella biologica liscia e analcolica ok quindi non è vodka ci sono passato anch'io dicevo e vari periodi della mia vita ho fatto le mie scelte forse io praticamente abitavo in una zona che ai tempi era molto rinomata per essere abbastanza un ghetto un ghetto di Firenze le piagge a Firenze ci sono varie zone e poi sì certo come a Roma ci sono come a Prato il soccorso sì capito ci sono le varie zone di ogni città e soprattutto nelle periferie ci sono eh a voglia c'è le band in quegli anni c'era poco c'era poco e nulla non avevamo neanche un centro commerciale c'erano molte persone del sud mischiate a persone di qui c'erano albanesi rumeni cinesi erano più intorno diciamo però era diciamo un po un mischione senza un minimo di controllo c'era poco controllo non c'era modo di sfogare anche questi problemati è successo tante volte di essere diciamo o di essere io partecipe di una certa situazione in cui partecipe nel senso che ero presente non c'è partecipato a qualcosa oppure di sapere o tipo c'è stato gli accoltelamenti anche delle piccole sparatorie e in cui magari io passavo da lì poco prima poco dopo vedevi anche magari delle scene un po particolari poi vabbè prevalentemente è successo a me è successo anche al lavoro è successo anche al lavoro di gente anche poi aveva abbastanza avanzata erano nemmeno piccoli cioè non erano ragazzini ma cavolate sai il tipo le prese in giro continue il pallino mentre stai lavorando il pallino di carta di continuo oppure ne so anche attivare mobbing no perché se parli di mobbing subito anch'io non è però si poteva essere visto ma non era mobbing perché era casuale ok c'era proprio no era per capire una scuola magari quello è un pochino più arzillo di carattere ti tira pallini e ti sta tutta una giornata di niente magari sei lì che poi dopo un tot di tempo poi ho avuto la mia prima ragazza insomma comincia anche a vedere le cose in maniera diversa perché cominci anche a vedere tipologie di amici diverse da quelle avevi cominci a mettere anche a confronto quello che eri e quello che diventerà diventerà incominci magari a immaginarti le cose con una vista diversa e un giorno io a scuola mi ribellai però prima mi ribellavo ridendo e scherzando e basta una volta invece come si dice mi si chiude la vena mi stappo la vena e quasi da passare dal torto io infatti lì fu un errore poi perché dalla ragione passi alla parte del torto tutto perché ho la solita fortuna quando feci questa cosa c'era chi chi era di dovere a controllare e teoricamente la classe mi beccò sul fatto diciamo però non era lì per io non mi face nemmeno tanto la storia di ma come non viene calcolato tutte le volte mi stavo fatto a me e adesso invece è colpa a me poi dopo ho detto no aspetta quello perché sono stato scemo io poi se vuoi farlo dopo con furbizia ha certo ma infatti io allora sono stata più furba di te tante volte il mobbing o ancora di più il bullismo ha fatto un furbizia eh sì difficile sia stupida come no invece no non ti credere non ti crede infatti sono sempre ancora proprio la luce del sole tranquille sapendo pur magari che ti troveresti sei in una situazione tesoro io io personalmente ho subito tutto la luce del sole dentro la scuola davanti la scuola nessuno ha fatto niente però loro erano consapevoli che non ci sarebbe stata una reazione o contro di loro io credo io credo di sì perché io ho provato a parlare con una mia insegnante io guarda questa la prima frase della canzone flashback 13 anni una mattina andavo a scuola ok cosa memoria lo sai ecco e cosa cosa di montaggio qualcosa mi hanno presa a calci mentre la campana suona è vero io stavo entrando a scuola erano in cinque mi hanno buttato in terra e mi hanno presa a calci io sono andato dalla mia insegnante ma no ma che ma che dici non è mica vero questo questo è stato io cosa ho fatto sapeva benissimo perché io ho detto voglio un aiuto non ha contattato nemmeno i miei genitori cioè io quando c'è un voglio dire un insegnante ma che cazzo di persona sei infatti io alle medie andavo male a scuola ci andavo contro voglia andavo male eppure io sono abbastanza intelligente c'è a me c'è ho sempre avuto una media alta alle superiori ma ci sono ritrovato a scuola e cosa è successo dalle medie diciamo questo è successo in seconda media in terza media dopo l'esame di stato ho ritrovato questo che era il capo del cazzo del gruppo ok il capo sì c'è sempre uno che trascina gli altri per fare gruppo per dare noia no e c'è quello che la banda di altri sono le famose bandiere va bene quella parola lì diciamo la bandiera e poi c'è quell'altro tempo il vento e il vento che trascina io ho trovato il vento che trascina ero si ero al parco apertini lo conosci ero al bocciodromo perché noi quando si era più ragazzini e le mie amiche si usciva lì sento queste fa e chi ma schiaccio a io non ci ho visto più io l'ho guardato nelle palle degli occhi gli ho detto io sarò anche un maschiaccio ma te tu sei un figlio di puttana gli ho fatto sanguinare il setto nasale io non l'ho mai fatto io non l'ho guarda veramente sono rimasta io non sono attiva però tutto quello che ti hai mai fatto passare da soli spesso e volentieri non è solo quello anche a livello verbale perché io poi ho iniziato cioè non volevo io non sono una che offende però ho imparato negli anni perché in quel senso lì ho dato del figlio di puttana e la sua mamma non c'entra nulla cioè oddio c'entra perché mi ricordo eravamo al compleanno di un ragazzo questo qui ha spaccato la testa con sasso e ha detto no ma poverini mi figliolo perché ci sono anche genitori ignoranti no che su figliolo un fama nulla e poi è da rinchiudere capito io sono quelle persone sanno benissimo anche in cuor loro che non gli sono stati dietro al dovere sì infatti c'è magari dato no quindi nel senso qualche scappellotto quindi questo è ora ho giustamente ho parlato di cose talmente crude però per farvi capire che al peggio non c'è mai fine quindi se potete fatevi aiutare ma anche se è una cosa a livello verbale perché secondo me il verbo uccide di più poi dopo si può trasformare anche di solito si cominciava la parolina eh sì appunto poi vedi che magari la reazione dell'altro è un tipo di reazione è infatti di non risposta o di di sottomissione cioè sono andato sottomissione la mia offesa maggiore ma schiaccio ma schiaccio ma schiaccio non avevo amiche femmine perché pensavano che ci provavo con loro e ora magari ti direi ci proverei anche con le vostre madri se proprio lo volete sapere poi mi sono fatta anche la sorella di una mi ha fatto l'applauso non so più ma schiaccio se volete faccio anche nome e cognomi mi sono fatti il fratello la sorella e tra un po mi fa anche la mamma per dire no ma ora è per dire no per farvi capire ma schiaccio ma schiaccio però il ma schiaccio si è accettato e quindi questo è c'è c'è tanta tanta rabbia eh tanta rabbia ma guarda di sfogarla lo sai guarda io io lo so come sfogarla la rabbia è meglio che non ci penso no io parlo di a di musica sì ok ma non guarda la mia soddisfazione sarebbe sfogarla in un altro modo non voglio saperlo ah bravo non lo sapere lo dici tu ok vabbè ho detto anche troppo è cosa orate questo è un più o meno un consiglio è dato a quelli che sono stati stati o che sono vittima di bullismo che consiglio dai invece a chi fa bulli fa o sa d'aver fatto magari è una persona che si è resa conto di aver sbagliato cioè non voglio mettere tutto perché io ti dico ho conosciuto persone c'è conosciuto persone a oggi ho rincontrato persone che si erano comportate male magari non era proprio bullismo però diciamo allora erano bulletti o comunque si comportavano male in generale avevano carattere allora io però ora sono persone che se te glielo vai a dire dire sono stato una fava sono stato un coglione allora intanto contando io tanto sfatiamo molte di queste persone avevano problemi molto più grossi dei miei no 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 questo lo voglio dire però senza stare a tesoro te la dico io una cosa sfatiamo il mito che i bulli sono quelli che vengono da famiglie no 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 ho detto ho detto alcuni alcuni lo conosco perché ci sono i miei bulli i miei ci sono i miei bulli tutte famiglie buone sia a livello economico a livello di di benestare rinomate così ma anche io ok una delle scuola musica quando fece la scuola musicale in un anno erano ora non era non era proprio bullismo perché non era del tutto però diciamo ci si avvicinava ed erano tutti io io venivo da ovviamente da il ghetto invece loro erano ora non ti parlo non era miliardari è però erano persona ma si parla di persone che stanno bene a soldi che non gli manca niente poi soldi o non soldi non ti manca niente ok quindi dal momento che a te non ti manca niente e se una persona vuota perché diciamocelo le persone viziate alla fine sono quelle a cui manca sempre qualcosa perché alla fine diventano persone vuote perché se io si riempa così tanto magari avere tutte cose materiali perché che ne so voglio un bicchier d'acqua tieni amore voglio comprare un fucile tieni amore voglio andare a troie tieni amore voglio 200 euro tieni amore io per qualsiasi cosa anche una stupidaggine me lo dovevo sudare perché io l'ho sempre sudate le mie cose ok e ora ringrazio di avere un lavoro è cinque anni che lavoro per cazzi miei quindi penso di essere una persona abbastanza indipendente però lo stesso la mia testa dice non è che se ora lavori fa la ragazzina viziata è no me le devo sudare anche quelle cose c'è cose più grandi quindi chiudendo questo discorso io personalmente dico che le persone che si ritrovano a bullizzare è appunto perché hanno tutto o anche le persone che vengono da una famiglia disastrata è vero io io da una parte capisco più chi non ha niente ok rispetto a uno che ha tutto perché cacchio te c'hai tutto hai tutto dalla vita perché devi fare il bullo cosa ti manca perché vuoi fare il figo perché saprò ci sono anche quelli tutti rileccatini vengono a scuola poi hanno dei pottini allucinanti tutti truccati cioè poi vengono andando in maschiaccia meglio allora che ti deve che ti devo dire a te che sa questa pone non lo so se una femminuccia cioè insomma che che concetto a queste persone ma io ti parlo magari una persona penso è passato anche del tempo quindi magari fortunatamente guarda uno dei ragazzi che mi ha bullizzata l'ho ritrovato poco tempo fa non ti non vi dico che siamo in buoni rapporti però quando mi vede mi saluta all'inizio era un po della serie madonna ma è proprio lei perché sai si cambia sia d'aspetto fisico si cambia che a livello di carattere non ha più visto l'Ilaria che ero prima e ora è tutto ciao Ila ciao Ila come stai allora tutto bene cioè per dire quindi io non voglio neanche che le persone che fanno bullismo vadano a chiedere scuse che vorrei che pensassero a quello che fanno perché evitare magari evitare perché se un domani un domani succede a voi succede a voi questa cosa 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 cioè cosa volete che non lo so io credo molto nel karma cioè io oggi bullizzo te domani però puoi essere te a bullizzarmi può fare ancora più male perché perché te sei stato il primo a farlo quindi sai quanta cattiveria ci hai messo se quelle persone a sua volta fosse stato bullizzato cioè come la vediamo il cosa cioè il fatto cioè il fatto che io sono stata bullizzata allora bullizzo anch'io si cioè nel senso il motivo per cui tu bullizzi è perché qualcuno bullizza cos'è cioè ora è ovvio a prescindere però è sbagliato però diciamo è è un po' come quando uno ha una delusione d'amore e fa il chiodo scaccia chiodo questo è classico sì quello è un classico però per dire è ovvio è quel quello che sta bullizzato non ti verrà mai a dire io faccio così perché si stabilizza o almeno non nell'immediato magari dopo vent'anni dopo vent'anni ma magari io penso ma magari sai ti dico la verità ora nel mondo in cui siamo oggi il cervello di un essere umano si potrà sviluppare ovviamente dopo 30 anni forse siamo troppo indietro forse ai 40 anni si arriva ad avere un minimo di maturità e capire che abbiamo sbagliato qualcosa del cyberbullismo cosa mi dici cioè che è successo ma a parte se ti è successo e pensi che i social siano stati un modo per amplificare il bullismo per semplificare il bullismo per semplificare semplificare il bullismo o potrebbe essere anche per semplificare il farsi dar mano se si è bullizzati cioè può essere una mano allora io ti parlo di me quando ho subito bullismo non c'era tutta questa smania dei social degli smartphone c'era chat appunto it no c'era messenger msn msn poi che cazzo c'è facebook il trillo di msn che brum 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 allora io personalmente non ho mai subito cyberbullismo quindi non saprei so che cos'è ma non saprei come ci si sente sicuramente il cyberbullismo è un po' più peso rispetto al bullismo che viene subito diciamo dal vivo perché io ho letto siccome sono un appassionata di sono una c'è un appassionato non passatemi il termine sono come si dice mi informi senti ti attrae mi attrae mi piace informarmi per capire come va questo fenomeno del bullismo visto che l'ho subito e vedendo che molte persone arrivano al suicidio perché vengano fatti video e messi in rete oddio quello forse è più che cyberbullismo è un ricatto no è cyberbullismo cioè ok si va beh ripreso si no 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 non ti parlo di ricatto ci può essere allora ti spiego il ricatto vuol dire che allora aspetta te lo spiego in modo più semplice io ti faccio un video dove te subisci violenza senza che senza che tu lo sappia io lo metto in rete e te non lo sai quando poi quando lo vieni a sapere o leggi commenti che ne so perché non l'hai ammazzato perché è ancora vivo e te ragazzino di 14 anni ti butti sotto un treno oppure te ragazza di 17 anni ti butti da un palazzo perché la vergogna è tanta perché te in quel momento perdi la dignità perché arrivi a più persone però non la perdi magari cioè la perdi magari se se viene infatti viene fatto al pubblico e magari qualcuno ti vede ascolta è il numero chiuso se invece lo fai lì allora anche le persone che non ti conoscano ecco ecco vogliamo parlare volevo arrivare a questa cosa cioè un conto ti fo sempre l'esempio della scuola cioè quei cinque bulletti che ti ammazzano di botte fa conto in quanti lo sapranno un cento perché non tutti parlano con tutti alla fine per dire poi sì è vero in una scuola quante persone ci potrà essere cinquecento o no sono troppi duecento trecento finisce lì quando si parla di web facebook ora c'è instagram ora c'è tic toc whatsapp ma irrilevante poi c'è youtube c'è youtube cioè te carichi un video su youtube sì oddio ora c'è tutto un discorso politico di youtube sì però ho trovato video se and'automatizzato certe volte magari metti un video che non ha un problema certo io con esempio il video pubblicato di sé ho avuto inizialmente problemi perché c'era un fatto in automatico c'era un fatto di copyright però io avevo scritto benissimo che c'è chi era chi non era certo ora poi magari se ci sarà da dover modificare qualcosa ovvio che lo modifio però c'è stato un problema sul copyright però essendo automatizzato spesso volentieri succede che magari un video che non ha problemate o di sesso o di violenza in automatico l'algoritmo becca allora abbiamo avuto dei problemi tecnici quindi non so dove siamo arrivati penso sul più o meno sul server bullismo poi sì per non prolungare troppo questo video perché sennò poi dura dura ora a parte vabbè non l'abbiamo appesantita tantissimo però certo è giusto parlarne magari si potrebbe fare qualcosa che ne riguarda anche vista da altri punti di vista eccetera sul discorso del server bullismo che era dicevi era comunque poteva essere amplificato più pesante in alcuni casi che invece fatto dal vivo sì perché arriva più persone con i social sì che cosa cosa ci cosa ci vuoi cioè qual è cosa cosa vuoi fare cioè cosa vuoi fare nel futuro cioè a breve hai qualche progetto in particolare hai idea di dove andrai a finire dove andrai a battere la testa battere il capo come diciamo in Toscana sinceramente no non faccio progetti sul futuro oddio vorrei farmi una vita quello sì ma nel senso progetti ulteriori per ora no vivo e lascio vivere non pianifico più niente hai qualche programma cioè qualche cosa che magari qualche spoiler parlo più di non di Ilaria ma di Liblaster ah ok sì diciamo no appunto devi specificare con chi stai parlando se no sembra pure bipolare a parlare così però e niente ora mi sono presa il mio annetto di pausa perché ho avuto parecchi problemi quindi se uno non sta bene qui non fa un cavolo e diciamo c'è anche bisogno ogni tanto di un po' l'aria in generale può essere il momento di la pausa dello scrittore come si dice sì la pausa dello scrittore sì la pausa dello scrittore cioè poi io ho il blocco dello scrittore blocco dello scrittore sì me l'ho presa molto lunga però sì ora dovrei riniziare a fare qualcosa ovviamente niente di che però per ora rimango sempre lì sono sempre dell'idea vivi e lascia vivere intanto c'è il video su di londra sì che ti ho costretto con una pistola certo intanto c'è quello io direi non so se vuoi dire qualcos'altro no guarda sinceramente niente volevo rilanciare il messaggio dicendovi di evitare di restare soli fate di tutto per farvi aiutare questo sì ve lo do vivamente come consiglio ma anche per vivere meglio gli anni futuri perché da ragazzini non siamo mai abbastanza consapevoli di quello che ci sta accadendo sembramo forti sembramo coraggiosi e poi superata l'adolescenza si diventa adulti diventi più consapevole e basta una spina presa così che non è niente in confronto a tutto ciò che ha subito prima e crolli questo ok e niente io ti ringrazio grazie a te Danny magari ci saranno anche altre occasioni magari andiamo a parlare inglese certo facciamo un video in cui parliamo inglese in cui parliamo l'inglesiano e anche il latino il latino il latino è il latino perché latino non si pronuncia quindi latino tanto passare un bambino gianta